Una settimana esatta per ufficializzare le nuove nomine a Pescara il sindaco Marco Alessandrini ha sciolto tutte le riserve dinanzi a un numerosissimo pubblico composto da opposizione e stampa a lasciare il proprio posto come trapelato qualche giorno fa Sandra Santa Venere con delega all'edilizia, Veronica Teodoro con delega al sociale e Adelchi Sulpizio con delega ai tributi. Qui naturalmente c'è anche un pensiero di gratitudine nei confronti degli uscenti che hanno contribuito a questa prima fase. Noi siamo una comunità politica consapevoli che questo tipo di avvicendamento sono sempre momenti non agevoli però abbiamo chiesto a loro e alle forze politiche naturalmente un sacrificio in nome di un interesse superiore che è quello di Pescara perché dobbiamo in questa seconda fase messa in sicurezza i conti dobbiamo partire, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per lo sviluppo. A sostituirli saranno l'architetto Loredana Scotolati, l'avvocato Stefano Civitarese, ordinario di diritto tributario presso l'Università d'Annunzio e Antonella Allegrino, attualmente consigliere del CDA della società aeroportuale Saga. Prima della presentazione il sindaco ha voluto spiegare motivazioni e difficoltà che hanno reso necessario il rimpasto di governo che sono consapevole dell'area di insoddisfazione creata nei confronti degli esclusi. Sono sostituzioni che vogliono andare nel senso di un efficientamento del funzionamento della macchina amministrativa. Non è questa la sede, non siamo a scuola, non diamo pagella. Io penso che tutti gli assessori abbiano speso tempo, passione, dedizione e interesse alla causa. Tra le novità annunciate da Marco Alessandrini è anche la ridistribuzione di deleghe ad alcuni consiglieri, trasformati così in consiglieri delegati. A Riccardo Padovano, la portualità, e ad Adamo Scurti, quella ai rapporti con federazioni sportive. Resta ancora da fare chiarezza sulla ridistribuzione di tutte le altre deleghe e anche dei nuovi ruoli che verranno distribuiti a coloro che sono rimasti in squadra. Questo è un passaggio sicuramente non agevole perché io so che questo è il palazzo della politica però so anche che io, oltre che a parlare con gli uomini della politica, devo parlare con la città di Pescara e si è avvertita una necessità non solo del sindaco ma più ampia naturalmente di garantire una fase 2 di sviluppo con degli avvicendamenti che certo non sono semplici, che certo lasciano delle distanze che però vogliamo colmare consapevoli che un progetto politico significa mettersi a disposizione e con l'idea che comunque c'è spazio per tutti in una comunità politica che voglia definirsi come tale.